Entra, entra, la Parmen! Come stai? Ben trovata! Ben trovati! Perché una donna decide di fare la direttrice d'orchestra? E perché ce ne sono così poche? Allora, la decisione matura attraverso il tempo, attraverso le esperienze. Io nasco pianista, quindi da quando avevo quattro anni suono il pianoforte. Poi attraverso la passione per l'opera, ho fatto la pianista d'opera in tanti teatri del mondo e da lì mi sono detta, invece di preparare sempre le cose per gli altri, perché non mi metto io in gioco e faccio io la direttrice d'orchestra? E quindi attraverso tutti gli studi degli anni... E quindi è stato anche un percorso, diciamo, di autorealizzazione? Sì, un lungo percorso, devo dire. Non premeditato, ecco, che si è sviluppato nel corso degli anni. Hai preso la tua vita e tu sai che c'è... adesso comando io. Perché poi il direttore d'orchestra, la direttrice d'orchestra, è un lavoro meraviglioso, perché ha insieme la parte artistica, però anche, diciamo, la parte di controllo dei musicisti. È molto complesso, è un lavoro che appunto richiede molto la capacità di comunicazione, ecco, questo sicuramente. Perché devi sapere tutto. Non è solo il gesto del momento. Tu hai la bacchetta o le mani? Tutte e due. Tutte e due. A volte solo con le mani, a volte con la bacchetta. Ma c'è tutta la fase di preparazione, di colloquio, proprio di conversazione con i musicisti. Quindi è... C'è un po' di maschilismo nelle orchestre ancora? No, no, assolutamente. Io trovo che i tempi stanno veramente cambiando e c'è molta apertura. Siamo sempre di più, sempre troppo poche, ma... Hai diretto e dirigerai, raccontami. Allora, io sono stata adesso a gennaio... Alla Scala. Alla Scala. È stata un'avventura meravigliosa, veramente. E tornerò adesso a maggio. Esatto. Sempre con opere liriche, no? Prima hai fatto i Capuleti e Montecchi. Esatto, ho fatto i Capuleti di Bellini, Capuleti e Montecchi, a gennaio. E tornerò con la filarmonica della Scala a maggio per dei concetti sinfonico. Ti vediamo dirigere, vediamo. Grazie a tutti. 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 di New York peraltro ci sono le elezioni della Callas alla Julia School che sono famose perché ascoltare quelle registrazioni è da perdere la testa e quando tu mandi questa domanda oh, le dicono di sì è praticamente l'ultimo anno di studi al Conservatorio di Musica Santa Cecilia qui a Roma, io sono romana incontrai un maestro di pianoforte molto famoso tra l'altro Gheorghi Shandor che era stato allievo di Bella Bartok e mi sentì suonare e mi disse ma tu hai mai pensato di venire alla Julliard? e io ho detto ma la Julliard era la scuola di saranno famosi quindi ogni anno cioè alla scuola di fame a cui si è ispirato e quindi ci sono 500-600 pianisti all'anno che vanno a fare le audizioni e poi ne prendono tra i 12 e i 15 quindi io dissi vabbè mi lancio mi butto e mandai l'application e nella preselezione mi invitarono a fare l'audizione l'audizione era 8 minuti 8 minuti di orologio Beethoven, Schubert, Debussy i vari compositori e poi dopo due mesi nel mese di maggio alla vigilia del diploma qui a Roma ricevetti la lettera di ammissione e quindi poi ad agosto feci fagotto quanti anni avevi? avevo 19 anni e sono andata a New York dove sono stata poi più di 13 anni sempre buttarsi mai dire questa cosa non posso farla mai vero? mai tutto è possibile è una tua regola nella vita o l'hai imparato facendolo? ho imparato facendolo e ci credo cioè porsi delle mete non con l'arroganza o la presunzione di dire sicuramente arriverò però porsi delle mete e dire se ce la metto tutta si può prima o poi la ruota gira poi sei stata tanti anni la pianista di Riccardo Muti sì sono stata molto fortunata nel 2005 lavoravo all'Opera di Vienna dove poi ho debuttato nel 2016 con questo filmato che avete fatto vedere la Cenerentola di Rossini e incontrai il maestro Muti ero pianista delle nozze di Figaro di Mozart e poi lui mi reclutò a quali tempo facevi gli install facevo le prove al pianoforte ok per recetto per i cantanti e poi nelle recite suonavo il clavicino che cosa hai imparato da Muti? il rigore dello studio che già avevo perché ce l'avevo quanto si studia per essere una brava direttrice d'orchestra? è una vita fatta di molto studio perché oltre a quello che si è imparato nel passato cioè tutti gli studi vari c'è una ricerca continua nelle partiture di una verità nascosta che non conosceremo mai poi Mozart esattamente cosa volesse scrivendo però oltre a pensare cosa Mozart voleva devi anche pensare cosa tu vuoi da quello partito dopo aver studiato la base pensare io come sento questa frase musicale come come la voglio porre poi c'è anche una parte istintiva ovviamente perché sennò è tutto soltanto meccanico e quindi ti ha insegnato Muti il rigore nello studio e poi beh guardandolo lavorare con l'orchestra con i cantanti come costruire per esempio un'opera dalle basi partire dalle prove al pianoforte con i cantanti poi lavorare con l'orchestra poi col coro nel rapporto con l'orchestra e con i cantanti questo è proprio come si esercita la leadership perché lì devi essere tu capace di farti venire dietro no? sì certo è un po' istintivo e poi io credo che ci sia una parte di comunicazione cioè proprio di come ci si rivolge ai musicisti tu come li conquisti? questo bisognerebbe chiederlo a loro perché nulla è calcolato la musica fa un 50% è la musica stessa nelle prove che ti dà l'assist per cosa per cosa dire e poi c'è tutto il bagaglio delle esperienze di come porsi la cosa più importante è convincere attraverso il gesto un pizzico di carisma e la personalità un gruppo grande a seguirti ecco come fai? come si il gesto del direttore appunto se devi dare un crescendo allora facci un corso di direzione dipende se si comincia per esempio in Rossini c'è il famoso crescendo rossiniano è certo brava allora se uno inizia per esempio piano il gesto deve essere piccolo quindi fai perché se io faccio un gesto grande uno suona è proprio un fatto divisivo quindi tu cominci e poi diventa sempre di più e poi lo aumenti ok perfetto bene siamo a posto ho imparato questo è sul ritmo se invece è una nota lunga che comincia piano dipende puoi fare così ci sono tante cose che nel momento ci sono delle cose tecniche che impariamo e poi delle cose più stintive l'opera che vorresti dirigere? che ancora non ho diretto o quella che è più la tua opera del cuore dai allora vai ce ne sono tantissime una che veramente sogno di fare prima o poi è l'hotello di Verdi è bellissimo quello di Martone è l'ultimo quello di Napoli purtroppo non lo sono riuscita per chi l'hotello? beh perché intanto io amo molto Verdi ed è l'ultimo Verdi quindi un Verdi complesso e poi c'è tutta la natura umana la gelosia tutte queste cose orchestrale mente è proprio scritta in maniera magistrale c'è il coro insomma Speranza è stato bellissimo conosciuti volevi chiederle una cosa? ma il direttore d'orchestra quando dà le indicazioni all'orchestra stessa sei in anticipo nella lettura delle notte? quindi tu sei un tempo scusa questa qua è deformazione professionale tu quindi sei in anticipo di un tempo? allora c'è il tempo reale mentre guidi e poi devi anticipare quello che arriva quindi per esempio se dopo tre o quattro battute l'obo ha un'entrata importante ti prepari e poi dai l'attacco hai capito? non è una robetta così è tutto sì deve essere per questo bisogna studiare anche tanto Speranza sei innamorata? eh l'amore allora l'amore è una cosa importante secondo me nella nostra vita e l'amore arriva in diversi momenti della vita in diverse forme e in diversi modi eh nello specifico direi che l'amore c'è mh siamo contenti e l'amore rende tutto tutto più semplice nella vita perché oltre alla carriera ai viaggi eh e a tutto il resto eh ci vuole una base effettiva un ancoraggio sì questo credo che sia importante per tutti no? certo avere dei punti fermi Speranza grazie per essere stata con noi veramente buon vento mille in bocca al lupo per tutto brava 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 grazie a voi